Si è conclusa la regular season della Carpegna Prosciutto Basket Pesaro con la conquista dell'ottavo posto e i quarti di finale play-off con Milano che scattano sabato 13 maggio con gara 1 al Mediolanum Forum. Si è conclusa pure la seconda stagione del Forma di Rossini TV insieme a Canestro che per la sua ultima puntata ha ospitato giovedì sera coach Yasmin Repeja. L'allenatore croato, pungolato da Marco Cadedu e dalle domande dei tifosi, ha rinviato ogni discorso sul suo futuro a dopo i play-off sui quali si è concentrati anima e corpo per tentare l'impresa. Vi posso promettere dopo play-off venire di nuovo e parlare di futuro, ma adesso dobbiamo stare tutti concentrati per fare meglio è possibile questa serie, perché le parole come ho detto dopo la partita non c'è nulla da perdere perché budget non è paragonabile, io non accetto e quelle parole non interessano perché c'è da perdere, c'è tanto da perdere, perché in ogni partita c'è da perdere e c'è da vincere. Se ci sono nostre chance, 1%, 5%, 10% ci sono e andiamo a provare a fare un scherzetto, come posso dire. Sì, lo scherzetto, sì, certo. E così, vediamo riusciremo o no, perché sappiamo che giochiamo contro la squadra fatta per vincere tutto. A prescindere che il futuro sia con o senza repescia, il coach croato indica una strada precisa per il salto di qualità del progetto pesarese. Secondo me ci sono due cose stra-importanti, stra-importanti per avere un progetto riconosciuto o progetto che ti permette migliorare con stesso budget, stessa altessa del budget. Prima cosa sono strutture che mi permetto di dire, per questo sono arrivato stasera qua, per dare un messaggio stra-importante a questa città. Alla città. Se vogliamo avere giocatori che vengono e fanno miglioramenti e progressi importanti per poter valorizzare ognuno, sai, perché tantissimi procuratori, tantissimi giocatori vogliono venire qua, vogliono venire qua, ma senza strutture adeguate. Noi siamo un giorno a Vitrofrigo Nord, oggi siamo stati Cialetta, Cialetta come si chiama? Sì, Cialetta, non è una casa, una casa che si chiama di figlio. I nomadi. Come nomadi e così non va bene, così non va bene. Noi dobbiamo avere strutture per lavorare come si deve lavorare e là c'è un enorme spazio per fare progressi. Perché prendendo, se c'è questa possibilità, io prendo due giocatori giovani, tre giocatori giovani, facciamo lavorare come si deve lavorare con loro, aumentando il loro valore, si aumenta il valore di squadra e, è sicuro, squadra diventa molto più forte. Questa è la prima cosa. Seconda cosa, avere continuità di budget. Non parlo altezza di budget, continuità di budget. Perché tutti i nostri consorziati, o il nostro sponsor principale, sono persone strasserie e stanno facendo, in questi periodi molto, molto difficili per lavorare, stanno facendo ottimo lavoro. E mia domanda è loro. Come, che cosa succederebbe se loro non sanno quanto il loro budget sarebbe prossimo anno? Noi sappiamo solo per un anno, non sappiamo per l'anno dopo. Bisogna programmare. Così è difficile programmare. Certo, certo. Queste sono due cose, due cose. Per poter avere una programmazione più lunga, per poter firmare un giocatore quando si vede che merita stare di più di un anno. Perché, firmando i giocatori un anno, se fa bene, va via, lo prende qualcuno. Che gli dà più soldi. Se fa male, lo mandiamo noi. Voglio dire, si deve cominciare da zero. Queste sono due cose, secondo me, principali. Non altezza di budget, sicuro che budget è importante. Ma queste cose sono principali se vogliamo fare progressi importanti in questa società, in questa città.